Una sedia motorizzata per trasportare i pazienti, soprattutto nei palazzi più antichi, con tante scale che magari sono anche senza ascensore. Questa la donazione fatta alla Croce Rossa Arettina grazie all'impegno del Rotary Club Arezzo, del Rotary dell'area Etruria e dei club Inner Wheel Arettini. Praticamente è stata la generosità di tutti i club, ma anche della città di Arezzo, perché abbiamo fatto questo concerto il 3 gennaio. Tanta gente è venuta a sentirlo, ha dato il piccolo contributo, quindi è stato un successo non tanto dei Rotary e degli Inner, ma anche di tutta la città che anche nel suo piccolo ha contribuito. Lo stile di servizio è sempre ben presente nel Rotary e quest'anno particolarmente perché l'affiatamento tra Rotary Arezzo-Est e Arezzo porta dei grossi risultati come il Presidente Carlo Greco ci ha ora accennato. È una donazione importantissima per noi perché per i volontari che devono trasportare i pazienti a volte è un grosso problema, specialmente quando si va nei piani alti delle case. Io devo ringraziare i Rotary, il Rotary di Arezzo che si è fatto promotore insieme alle altre Rotary dell'area Etruria e gli Inner Wheel che hanno appunto fatto questa donazione. Sono cose importanti per la nostra comunità e purtroppo dobbiamo spesso ricorrere all'aiuto dei privati per sottuire a certe carenze di carattere economico che dovrebbero invece riguardare il pubblico.